a moto mio sul lago maggiore con kawasaki italia per la due giorni del kawasaki big celebration due giorni spettacolari su asfalto terra e persino acqua divertimento assicurato parafrasando un vecchio detto la fortuna aiuta gli entusiasti e noi che di entusiasmo e passione ne abbiamo da vendere abbiamo avuto la fortuna e l'onore di essere tra gli invitati alla veno mombello sul lago maggiore ai kawasaki big celebration se ve lo siete perso mannaggia voi cerchiamo di riassumere questa esperienza in pochi minuti di video in cui cercheremo sapendo già di non riuscirci a fondo di trasmettervi un po di quella passione che si è respirata sulle rievi di uno dei laghi che il mondo ci invidia il kawasaki big celebration è un evento dedicato ai motociclisti che hanno potuto nel weekend del 27 e 28 maggio 2023 provare la gamma moto kawasaki su strada e su terra già avete capito bene ma non solo un'occasione ghiotta anche per noi giornalisti a cui sono stati dedicati i giorni precedenti con la prova su strada delle varie categorie di moto e la casa giapponese su terra con l'enduro kx 250 e kx 450 e sull'acqua con la suggestiva esperienza del jet ski una bomba per cui bisogna avere un certo manico e anche la patente nautica jet ski che nasce proprio con kawasaki esattamente 50 anni fa divagazione sul tema due ruote anche per esperienza di guida con il simpatico 4x4 mule che si è dimostrato inarrestabile ma andiamo per ordine strada a disposizione per i test su strada lungo un percorso panoramico torno a ripetere che tutto il mondo ci invidia di circa 90 chilometri c'erano le z 650 rs le z 900 rs e 6 a rappresentare la categoria modern classic la z 900 se per le super naked la versi 650 tourer plus e la versis mille tourer plus per l'adventure tourer e infine la ninja mille sx e ninja mille sx tourer per la categoria sport tourer una sequenza di cambi moto lungo il percorso così da apprezzare le personali caratteristiche diverse tra loro ma tutte coinvolgenti come la tradizione kawasaki ciao 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 terra teatro lo storico campo da cross di l'amino bombello dove è stato ricavato un fettucciato che ha permesso nonostante il fango derivato delle piogge di giorni precedenti di provare l'agibilità dell'enduro kx250 e kx42500. decisamente non il nostro ambienti ideale ma poi ci ha portato in sicurezza il simpaticissimo mule a veryetto ciao Billy Gracias mechanical architecturosis university Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il Jet Ski Kawasaki da 1500 cm3 e quasi 300 CV, nome in codice 310LX, può raggiungere velocità ben superiori, ma sfrecciare a 100 km all'ora sull'acqua a noi poteva bastare e ci siamo goduti con l'evoluzione di cui è capace questo divertente mezzo acquatico, un modo diverso di vivere la moto. Tutto questo nella sempre coinvolgente ed accogliente cornice che il Lago Maggiore e le sue zone è capace di offrire e che Kawasaki ha scelto per far conoscere i suoi modelli a 360 gradi. I nostri complimenti vanno a Kawasaki, il Big Celebration è stato un successo. Grazie di nuovo e alla prossima.